silenzio fino alle votazioni che saranno l'undici, 12 e 13 di febbraio. Allora oggi qua con noi è un messaggio questo elettorale a pagamento Cristiano Berlanda, candidato di Fratelli d'Italia e si è stato a trovarci, torna oggi, buongiorno Cristiano intanto Buongiorno a voi Ben ritrovato, buona giornata, carta d'identità chi è Cristiano Berlanda, perché ha deciso di mettere la faccia, l'impegno per le regionali Facciamo una carta d'identità veloce Veloce, quello che vuoi Secondo me mi conoscono, nasco a Lecco, vivo Bellagio ho 48 anni e ho deciso di candidarmi per tantissimi motivi il primo è quello di cambiare la politica italiana questa è sicuramente una frase forte, forse stupida per molti ma invece è molto importante dal mio punto di vista quindi sono tornato qui da voi per due motivi uno perché ho ricevuto un feedback pazzesco dai giovani perché io punto tantissimo sui giovani dai 18 ai 25 anni il primo voto, cioè voi vi ricordate quando siete andati a votare la prima volta cioè l'esperienza del voto potrebbe essere interessante per cui io penso che un ragazzo della nostra età, no dei 18-19 anni che va a votare la prima volta per le regionali potrebbe essere una cosa simpatica quindi hai ricevuto un riscontro importante dal mondo giovanile assolutamente sì, soprattutto inaspettato è un mondo giovanile che appunto spesso lo vediamo avvicinarsi titubante un po' quasi perplesso di fronte a... assolutamente sì tu che cosa pensi di poter... i miei feedback sono stati questi Cristiano, cavoli, tu sei una persona che sei arrivato un po' come un marziano su Como perché io sono più conosciuto fuori da Como che in Como sei arrivato dal nulla sei arrivato, tam, ti hanno buttato dentro in politica hai scelto di entrare non vieni direttamente da un mondo politico ma da una politica sociale cioè al di fuori dai palazzi e stai portando un programma di svecchiamento di una serie di menate che sono... oh ragazzi adesso facciamoci una battuta la guerra dei cartelloni è dal 1990 che non succedeva più cioè io metto un cartello elettorale e dopo 20 minuti c'è quello del mio compagno di squadra che l'ha messo sopra anche perché gli spazi elettorali comunali come sapete sono pochi sono massimo due e adesso c'è la guerra dei cartelli la guerra dei santini c'è gente che colleziona i santini cioè tu vai in giro per Como noi abbiamo fatto dei gazevi degli incontri in piazza eccetera la gente colleziona i santini ma dopo magari fra due mesi li troviamo su ebay e vendono i santini di quello che ha vinto non lo so però è assurda ma il discorso di cartelloni non è legale attaccare un maldito? guarda lo diceva anche l'arte della guerra è la cosa più vile che un candidato possa fare nel senso che attaccare un cartellone sopra un cartellone di un tuo collega è scorretto ma questa cosa qui fa parte della politica fa parte dei giochi si è sempre fatto e andrà avanti a farlo poi chiaramente l'onestà intellettuale di ognuno di noi ci porta a fare quello che vuole io per esempio lascio uno spazio sopra se sono due vuoti lo metto e poi se ne coprono uno non c'è problema ma uno vuoto poi anche perché noi per esempio nella nostra squadra siamo in sei e abbiamo tutto il territorio ovvio che ognuno di noi gioca più sul suo territorio che su quello dell'altro io non andrei mai a invadere un territorio dove sono sicuro che non prenderò manco un voto ma perché è radicato molto magari il candidato B anche perché non serve è talmente grande la provincia di Como per cui possiamo comunque allargare giocare tutti a pari ma non si gioca mai a pari condizioni c'è sempre quello che pensa di fare il furbo e di preveccare e questa cosa qua non l'ho notata solo io l'ha nota anche la gente cioè io adesso sono convinto che i ragazzi ma anche i papà di questi ragazzi sono stufi di sentire le sue temenate oh l'ospedale di minaggio è diventato il best seller elettorale per tutti cioè fino a ieri non solo cagava nessuno scusate il termine da oggi oh l'ospedale di minaggio deve essere deve essere assolutamente portato ma è una cosa corretta questa cosa qui deve essere veramente migliorata la sanità deve essere migliorata i medici possiamo stare qui a parlare di tutto quello che hanno parlato i miei colleghi del mio partito di tutti gli altri partiti perché se voi guardate le dirette che sono state fatte qui da voi dicono tutti la stessa cosa tranne una una avete mai sentito parlare di disabilità no io ho ascoltato tutti i candidati si fanno la bocca grande delle strade tramezzine tutte robe importantissime manca solo la diga da qualche parte e poi veramente abbiamo completato ma nessuno mai parla di pari opportunità e disabilità questo è un mondo più importante volevo sottolineare non lo so che era giusto ma ne dobbiamo parlare anche noi non è che solo la sinistra o 5 stelle possono parlare di queste cose disabilità so che poi tu ne hai fatto anche una missione una missione esattamente appunto sei anche atleta ovviamente guarda io sono un atleta paralimpico esatto ho lasciato la nazionale per fare questa campagna elettorale perché non si possono avere due ruoli nazionale di golf paralimpico ecco cristiano nazionale di golf paralimpico esatto per cui ci credo veramente tanto ma indipendentemente dal risultato elettorale io sono convinto che a Como e in provincia di Como stiamo creando un movimento giovanile ok che probabilmente per un certo periodo è scomparso è scomparso per noia di questa politica siamo supportati dal mio punto di vista da un partito giovane ok dinamico che si sta battendo per un sacco di cose è giusto che anche i giovani abbiano il loro spazio per cui che io prenda un voto o che ne prenda mille o che ne prenda diecimila avrò comunque portato un messaggio nuovo alle generazioni di Como che mi seguono che ci seguono che seguono i social la mia campagna a me non mi vedete mai fare un comizio in piazza perché non serve a nulla però se andate sui miei profili social sarete martellati da informazioni intelligenti e non informazioni che non servono assolutamente ecco questo della disabilità del mondo con la disabilità che è un mondo purtroppo ampio spesso magari un po' ma sai che ti dico una cosa tanto poi mi assumo le responsabilità io ho contattato fior fior di associazioni di categoria disabili io sono come giocatore per olimpico dovremmo essere amici ma secondo te mi hanno risposto no ma sai perché non ti rispondono perché loro hanno il pensiero che solo i partiti di sinistra possano aiutare queste associazioni perché se no se io ti chiamo e ti dico sono l'atleta parolimpico posso rappresentare te la tua associazione la tua categoria in regione e tu non mi chiami c'è qualcosa che non va in questo sistema anche perché ci scommetto quello che vuoi che il politico che tu rappresenti a te di te non ti interessa assolutamente nulla se non nella fase elettorale perché dopo la fase elettorale sparisce l'entusiasmo la grinta tutti spariscono lo sappiamo meglio non siamo qua a raccontarcelo assolutamente per cui cavoli le associazioni di categoria che ho chiamato ho contattato dovrebbero assolutamente a meno quanto meno fare due chiacchiere con me ma perché ma perché quello che noi portiamo è la verità cioè io ti posso rappresentare veramente in regione su un problema che conosco bene non rappresentato dal sottosegretario del sottosegretario che forse farà un'emozione o quando hai bisogno di soldi mi chiami e te li faccio avere forse perché ricordiamoci che tutte queste associazioni vengono sempre lasciate alla fine ok questi sono alcuni punti importanti secondo me Cristiano del tuo programma oggi l'hai voluto giustamente sottolineare un po' così a ruota libera lo ricordo ancora Cristiano Berlanda messaggio elettorale a pagamento qui a Ciao Como candidato per le regionali di Fratelli d'Italia Cristiano senti che cos'altro vuoi mettere in evidenza che cosa c'è in questa campagna tu hai parlato del feedback positivo che hai avuto con il mondo giovanile è anche una sorpresa tutto sommato perché però che cos'altro c'è io penso che proprio il mood con cui tu ti proponi ai giovani d'oggi nel senso io ho un passato anche da se potete vedere se volete vedere su Youtube come Cristiano Sberla si apre un mondo si apre un mondo di musica di DJ di serate in tutto il mondo 5 dischi attivi eccetera eccetera ma questo perché perché adesso ve la racconto quando negli anni 90 si apriva il mondo della discoteca io avevo due scelte andare a ballare sembravo un palo perché giravo sempre su una gamba sola non era molto bello allora ho deciso proviamo a fare il DJ e da lì è partita proprio una carriera pazzesca adesso guarderò adesso guarderò c'è una carriera forte e simpatica ho fatto dei dischi uno ancora in classifica che si chiama Everybody Jump che è un disco inascoltabile al giorno d'oggi però questa cosa qua mi è servita per entrare a contatto a 360 gradi prima dello sport facevo questa cosa qui poi dopo o suonavo la sera o andavo a allenarmi la mattina per cui diventava abbastanza progestibile allora ho poi scelto lo sport però questa parte è stata molto importante perché mi ha messo veramente in contatto con il mondo giovanile a 360 gradi senza barriere perché facevo il DJ nessuno lo sapeva non dovevo camminare con nessuno fare niente con nessuno l'importante era che ballava la gente che cos'altro riesci a captare di questa campagna di questi giorni che ormai sono quasi agli sgoccio le prima del voto io capto una voglia secondo me di cambiamento la concorrenza che mi permetto di chiamarla così la concorrenza elettorale degli altri partiti sono delle persone molto serie molto preparate che io stimo e mi piacerebbe molto prendere un esempio anche nel mio stesso partito c'è una persona che io stimo molto e mi piacerebbe molto prendere esempio da lui per quanto riguarda la loro serietà il loro impegno la loro dedizione eccetera però ho ascoltato veramente tanti comizi se io ho davanti un bel po' di gente e questi qui mi parlano solo della tramezzina mi parlano dell'imbarcadero dei treni delle ferrovie delle pro... oh ma queste cose qua devono essere già nel bagaglio di ognuno di noi cioè se io vado in regione e non so e non voglio portare non voglio sistemare le strade eccetera vuol dire che non ha capito nulla per il territorio ma queste cose qui sono alla base andiamo oltre la base perché la base la dicono tutti siamo bravissimi a dire la base tutti tutti quanti noi riusciamo a dire queste cose anche perché sono tangibili venite a Bellagio il 13 di luglio c'è una strada che non ti porta non riesci neanche a salire per cui bisognerebbe trovare soluzioni eccetera eccetera ma su queste cose sono d'accordo ma non posso io dire a un elettore oh io sono bravissimo anche in infrastrutture faccio le strade tutti i giorni non so neanche di cosa si sta parlando ma ti posso assicurare che se mi voterai farei in modo che il partito che mi rappresenta la coalizione il partito che mi rappresenta ci sarà sicuramente qualcuno che si intenderà di strade e farà un progetto che porterà beneficio alla comunità e alla territorialità ma non posso se invece mi chiedete disabilità solo io oppure di pari opportunità o di società o di giovani in mondo giovanile è solo io prima a battermi ma ovvio che non possiamo fare tutto a me è questa cosa qua che i politici sanno fare tutto e dicono votatemi perché io so fare tutto ma anche il caffè magari se hai fatto adesso e Cristiano in effetti no ma così ma se noi io penso di essere odiato probabilmente da tutti i politici di oggi però dal punto di vista tecnico io preferisco ascoltare ve lo dico il mio parrucchiere piuttosto che un politico il parrucchiere la gente comune io seguo quello che chiede la gente comune il parrucchiere sa tutto di tutti esatto sa tutto di tutti ma sa tutto e lo riporta esattamente o più o meno com'è la realtà dei fatti Cristiano abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo a disposizione in questo appunto messaggio elettorale a pagamento che è a tua disposizione quindi ti chiedo per il finale hai già detto molto devo dirti che oggi sei stato particolarmente accattivante no ma ti volevo chiedere con rispetto parlando per tutti io non parlo mai di persona ma solo di vuoi spiegare anche il perché votare perché scrivere Berlanda sulla scheda elettorale che cosa vuoi dire insomma già un voto particolare questo spiegare ai ragazzi che non basta fare la X su Simo è una cosa interessante bisogna spiegarlo però è stata una cosa interessante però loro poi mi guardano e mi dicono e ho capito cioè non è che so bambo perché queste poi sono le reazioni poi del feedback della gente ok però è importante è importante barrare il simbolo che in questo caso è Fratelli d'Italia Meloni Presidente eccetera e poi scrivere Berlanda non scrivere Berlanda o nomi da Facebook o da Instagram strani Berlanda 74 no Berlanda bisogna scrivere Berlanda infatti abbiamo fatto il cognome serve questa gara dei santini il santino il santino serve esattamente per questo lo porti dentro al seggio e non sbagli mai bisogna vedere se il santino arriva al seggio perché spesso viene usato per cose che non posso dire nel radio assolutamente e poi altre cose invece vengono buttate e lasciate nei pantaloni o in macchina o via dicendo ma anche sui santini guarda che veramente c'è da ridere io ho visto santini messi in posti assurdi cioè dappertutto ho visto santini in tutte le parti del mondo quando sono arrivato qui anche nella strada non c'era nessuno adesso è pieno di santini pieno di santini anche qui da noi ma ci sta ma si allora io non penso che la gente voti perché prende il santino e poi un'altra cosa molto importante è questa potrà bene io sono contro quelli che ti dicono oh devi votare quello vota quello perché oh ti lascio il suo santino tu lo guardi ma chi cazzo è questo alla fine ma perché questa persona ma perché perché io devo farmi rappresentare una persona che non so nulla di lui allora il ragazzo un po' più sgamato va su google scrive Berlanda vede un po' di cose magari beh però simpatico altri candidati non voglio fare i nomi perché non mi va o c'hanno zero storicità a livello a livello di rete magari sono stati assessori sono stati grandi fenomeni però non basta oggi non basta come un'altra cosa se io se il mio adesso questa cosa qua lo so che si arrabbieranno ma mi assumo le responsabilità se io avessi il mio sindaco che si presenza alle elezioni e il mio sindaco ha avuto il mio voto io non lo voterai per le regionali tu stai abbandonando il tuo paese è brutto guardate che le persone che si sono candidate dopo essere sindaci chi si candida durante il mandato di sindaco se noi lo guardiamo nel 2023 è dal mio punto di vista sempre una mancanza di rispetto per i tuoi cittadini io ti ho detto tu mi voti perché io per 5 anni 4 anni ti porterò avanti dei progetti poi arriva bella bella la regione si aprono gli orizzonti di tutti i tipi che ben conosciamo o ragazzi ciao me ne vado è stato bene c'è il mio vice sindaco sì ma io ho votato te e tu dici ecco questa ovviamente è una mia idea o idea personale assolutamente di cristiano ma l'idea secondo me è che potrebbe interessare una parte di elettorato magari non giovanissima però che comunque sia da fiducia delle persone e poi questa fiducia di queste persone viene a mancare perché preferiscono alzare perché questa è una carriera la carriera politica fa gola a tutti su questo allora perfetto vedo che ci sono molti amici che ti stanno salutando sui social bene cristiano poi li saluti li ricambi tu magari personalmente che ti stanno guardando ti stanno ovviamente anche molti dicono punta sui giovani ecco bravo punta sui giovani ecco questo è un po' il mood che oggi ci hai detto non limiti l'imbordia ultimo minuto e mezzo a tua disposizione prego cristiano berlanda guarda il mio avvito prima di tutto adesso entriamo un po' nei ranghi io torno di petto non voglio offendere nessuno le mie sono opinioni personali siamo un paese democratico è giusto che vengano detto andate a votare andate a votare perché è importante andare a votare votate perché la voce della popolo è quella che poi gestisce e farà gestire una regione come la Lombardia andate a votare responsabilmente quindi non fatevi condizionare da persone andate a votare lui perché non sapete neanche chi è informatevi sul candidato che andate a votare prendete informazioni scrivetegli mandatevi un messaggio su whatsapp su facebook su instagram tanto ormai i social ce l'hanno tutti volete sapere qualcosa di più seguitelo 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 andategli dietro parlategli avete più informazioni e poi andate a votare avete due giorni se andate a sciare la domenica va benissimo tutta la vita andiamo tutti a Bormio a sciare non c'è problema lunedì mattina tac andiamo a votare guarda questa cosa è interessante perché dà la possibilità un giorno fino alle 11 di sera il giorno dopo fino alle 3 di andare a votare per cui giovani meno giovani signori anziani andate a votare 12 e 13 febbraio 12 e 13 febbraio il messaggio elettorale di oggi di Cristiano Berlanda candidato alle regionali per Fratelli d'Italia grazie Cristiano un saluto buona campagna in bocca al lupo grazie